Cosa, cosa, cosa c'è? Cosa, cosa, cosa c'è? Cosa, cosa, cosa c'è? Una gallina avanzò incerta nel salone, subito seguita da un'altra e poi da un'altra ancora. Chichi, chicchi, anche a me! Chichi, chicchi, anche a me! Chichi, chicchi, anche a me! Questi erano invece i galli, sopraggiunti al seguito delle loro mogli. Anche loro si sparpagliarono nel salone, lasciando senza parole gli altri animali. Che cosa succede? Chiese qualcuno vedendo che la confusione aumentava. Si è incendiata la foresta? Sussurrò una voce. È stralipato il fiume, disse un'altra. È scoppiata la guerra. È caduto un pezzo di luna. Le galline, intanto, sembravano impazzite. Si infilavano in mezzo alle zampe degli animali, saltavano sui tavoli rovesciando bicchieri e bottiglie. Basta! Gridò il gran cerimoniere Cavaliero Struzzo. Fuori di sé per la collera. Che storia è questa? Una gallina disse. Come? Non lo sapete? Qui regalano chicchi di grano turco. Chicchi di grano turco? Ma chi gli ha raccontato questa frottola? Nessuno. Abbiamo visto tutti gli animali venire verso la reggia e abbiamo pensato che regalavano chicchi. Ahimè! Gemette il leone. Che sudditi mi sono capitati! Lo struzzo gridò alla gallina. Siete voi che dovevate portare un dono al re. Non lo sapete? La gallina mosse il capo avanti e indietro, stupita, quindi corse dalle compagnie schiamazzando. Niente chicchi! Non ce n'è! Presto un uovo per il re! Il grido venne ripreso da tutte le compagne e in men che non si dica, a sua maestà venne offerto un gran cesto di uova fresche. Grazie!